Lupo cane aggressivo, probabilmente originario dell'est Europa, si dovrà scoprire la natura dell'animale che ha ferito 5 persone alla Marina di Vasto, destando naturalmente molta preoccupazione. Ieri c'è stato un vertice tra le parti interessate per le prime strategie per la cattura dell'animale. Intanto il presidente del Parco della Maiella, Lucio Zazzara, al nostro microfono cerca di fare chiarezza. Diciamo noi dobbiamo sempre dire che seppure da un punto di vista morfologico le foto e le riprese che sono state fatte darebbero la sensazione che si tratti di un lupo e da un punto di vista del comportamento, diciamo da un punto di vista etologico, questa situazione, questi casi non corrispondono a nessuna delle nostre conoscenze, perché noi non abbiamo proprio riscontri storici di alcun tipo di aggressività senza ragione del lupo, anzi non c'è proprio aggressività. Il presidente aggiunge che il lupo è un animale schivo, evita l'uomo, non lo considera una preda né un competitore sul piano della catena alimentare. Per noi resta una questione aperta sulla quale sicuramente ci impegneremo, ma abbiamo il forte sospetto che purtroppo si tratti di un cane ibridato oppure di uno di questi cani che vengono soprattutto nel periodo estivo abbandonati o comunque che vengono abbandonati perché chi li prende un po' imprudentemente non si rende conto che certe razze sono di per sé più aggressive. Adesso c'è una grande diffusione commerciale di queste nuove razze che vengono dall'est e che sono proprio ottenute con ibridazione con lupi dei Balcani. Zazzara spiega la mancata partecipazione alla riunione di ieri del parco. Certamente, infatti purtroppo noi siamo impegnati in un'altra emergenza anche se di un altro tipo a Palombaro dove appunto come voi sapete sono alcuni lupi sono comparsi nella periferia del paese e sempre più frequentemente e quindi abbiamo avuto una convocazione all'ultimo momento. Io poi ieri mattina ho chiamato il sindaco il quale è stato cordialissimo e ovviamente anche lui molto disponibile e abbiamo detto che noi continueremo a collaborare, che noi siamo completamente disponibili con tutti i nostri mezzi.